Vincinanza alle associazioni sportive e potenziamento dell'impiantistica territoriale. Questi gli impegni presi dal Ministro alle Politiche Giovanili e allo Sport, Vincenzo Spadafora. In occasione dell'incontro, lo Sport è la più grande community hub, promosso dal Presidente della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. Un incontro che ha visto presente, tra gli altri, l'allenatore della Nazionale Giovanile di Giuro, Sandro Piccirillo, intervenuto ai nostri microfoni. Hanno preso parte all'evento anche altre personalità del mondo dello sport, tra cui il campione olimpico di Pugilato Patrizio Liva, il professor Diego Perez e il marciatore Teodrico Caporaso. Noi stiamo parlando in tutta Italia della ripresa dello sport. La sport non è soltanto il calcio, il calcio non è soltanto la Serie A. Dobbiamo far riprendere tutte le discipline sportive, soprattutto sui territori, anche perché lì ci sono tantissime associazioni che fanno veramente la differenza, coinvolgendo centinaia, migliaia di ragazze e di ragazzi. Quindi siamo qui per dire che lo sport riparte, che lo Stato è vicino a tutte le associazioni sportive e anche per capire cosa fare, per esempio anche qui a Torre del Greco, per migliorare l'impiantistica sportiva. Si può parlare quindi di un'attività di sensibilizzazione anche verso i cittadini e verso i più giovani soprattutto? Sì, ma soprattutto anche un'attività concreta di sostegno alle famiglie, ai giovani, perché possano riprendere tutti l'attività sportiva. Da molto tempo non avevamo un ministro dello sport e delle politiche giovanili. Questo governo ha scelto di puntare su questi due importanti assi. Io da presidente di commissione ho portato e approvato una legge per l'introduzione dell'insegnante professionista di educazione fisica nella scuola dell'infanzia e primaria. Manca l'approvazione al Senato, però dimostra la sensibilità del Movimento 5 Stelle e di questo governo nel voler avvicinare i giovani allo sport. La disponibilità del governo per mio tramite ci può essere, ma poi la progettualità concreta e dei progetti credibili che deve fare l'amministrazione per poter accedere alle risorse. Il significato della presenza oggi qui a discutere di tematiche così forti qui a Torre del Greco, alla Santissima Trinità? Noi facciamo sport, quindi viene il ministro dello sport. Noi siamo sul territorio come gruppo Olympic dall'84. Quindi abbiamo organizzato da sempre grosse manifestazioni a Torre del Greco, manifestazioni anche internazionali. Quindi sono venute in passato squadre dalla Russia, Germania, eccetera, eccetera, ma un po' da tutta Europa. E quindi inclusione, problemi di recupero di ragazzi, sotto tutti i punti di vista, lo sport aiuta in questo. E noi col judo lo facciamo da sempre. Ormai è diventato uno sport conosciutissimo a Torre del Greco. Purtroppo poco visibile perché si aspettano l'Olimpite che poi o il Pino Maddaloni o Fabio Basile e altri vincano la medaglia d'oro. Allora si parla di questo sport, che è uno sport olimpico. Si può considerare quindi il judo uno sport in crescita? E cosa si può fare per migliorare ancora di più questa crescita, soprattutto qui in Campania? Sì, assolutamente in crescita. Pure perché, a parte adesso questo momento di stasi, di tutti gli sport, ma penso un po' di tutte le attività, è uno sport dove tu vai a relazionarti, vai ad allontanarlo da quello che è uno schema, quindi che i ragazzi, uno schema scusami, che sono così chiusi, invece noi li apriamo, diamo un po' di entusiasmo, di socializzazione, oltre che chiaramente delle regole ferre, il saluto, il rispetto, tutte quelle cose che oggigiorno... Grazie a tutti.